Grazie alla Banca d'Italia per avermi invitato ad annoiarvi questa sera. A margine di una mostra che ho trovato oggi pomeriggio interessantissima. Una mostra anche da leggere, non soltanto da guardare. Sì, mi è stato chiesto di intrattenervi brevemente su moneta forte, moneta debole, nella Italia Unita. Allora, io un po' ci ho pensato e vengo a dirvi il risultato di questi pensieri, che sono un po' giocati sull'idea generale che gli opposti convergono. Che le asimmetrie diventano simmetrie. Una moneta si dice forte quando può comprare più merci, in patria o all'estero. Ciò accade quando i prezzi scendono e il tasso di cambio della moneta in questione si apprezza, marcatamente. Dico marcatamente perché piccole variazioni non ci interessano. Una moneta si dice all'opposto debole quando può comprare meno merci, in patria e all'estero. E ciò accade allorché i prezzi salgono e il tasso di cambio si deprezza, marcatamente. In generale una moneta è forte perché la sua quantità è scarsa, la domanda di merci moderata, la loro produzione massiccia, la produttività nell'economia progredisce e i costi, in particolare i costi del lavoro e i costi dell'energia, sono contenuti. Qui ho scritto una frase stupidissima. Anche in economia gli eccessi sono dannosi, quindi la virtù forse sta nel mezzo. Tanto una moneta debole quanto una moneta forte frenano il progresso economico, provocano instabilità nell'economia, stravolgono la distribuzione del reddito e della ricchezza. Quindi sia la forza sia la debolezza della moneta possono provocare ripercussioni non solo economiche, ma perché no, sociali, politiche, istituzionali, anche molto pesanti, di grande momento. Esempi delle quali, no, gli esempi delle quali la storia gronda. La lira è stata forte in almeno due fasi. Il 1873-1895 e il 1926-1936. Tra il 1873 e il 1885 i prezzi all'ingrosso scesero, non di molto, ma scesero. Del 25% nell'intero sottoperiodo, i prezzi del grano diminuirono del 40%. Il tasso di cambio della lira si apprezzò, del 10%. L'apprezzamento si concentrò, come si evince dalla nostra mostra, nel triennio 1881-1883. Allora la fiducia nella moneta italiana tornò con il superamento del corso forzoso, dopo che, come si legge nelle leggende di Dascalia e della mostra, nel 1866, che era, Scialoia, insomma, si era stati costretti da una crisi finanziaria internazionale e dalla terza guerra dell'indipendenza, perduta militarmente, poi vinta diplomaticamente, si era stati costretti a sospendere la convertibilità di banca, dei biglietti di banca in metallo, in argento e oro. Anche a causa del protezionismo doganale, allora, la produttività risultò deludente, nello scorcio dell'Ottocento. Gli anni più neri di quel periodo, ricompresi fra il 1889 e il 1893, videro il crollo del sistema bancario italiano. Su quelle rovine sorse la Banca d'Italia, attiva dal 1894. La banca si unì, quale istituto di demissione, della carta moneta, al Banco di Sicilia e al Banco di Napoli, per essere poi, dal 1926, riconosciuta come unica banca centrale del Paese. Nel 1926-36, l'altro periodo di moneta forte, il cambio si apprezzò, qui ho scritto una parolaccia, follemente, del 70%, in termini di cambio effettivo, per scelta politica, di Mussolini. Questo avvenne dopo il discorso di Pesaro, del 18 agosto del 1926, nel quale discorso il Duce intraprese quella che gli chiamò la battaglia economica della lira, per la lira, in difesa della lira, queste sono le sue parole, sì. Dal 1926 al 1934, alla sopravvalutazione della lira nel mercato dei cambi, si unì una forte deflazione dei prezzi all'ingrosso interni. Del 10% l'anno. Del 10% l'anno, per quanti anni sono? 8-9 anni. Una deflazione. Di nuovo, in questo periodo, la produttività nell'economia italiana cessò di crescere. Inoltre, nei primi anni 30, come loro sanno, ebbe luogo la crisi industriale e bancaria più grave della nostra storia. Si riuscì, solo a stento, a evitare il fallimento di banca commerciale italiana, che non esiste più, di credito italiano, che non esiste più, di Banco di Roma, che non esiste più, ma allora esistevano ed erano colossi del sistema bancario europeo, si riuscì a stento ad evitare il fallimento di grandissime imprese attive in industrie, tra virgolette, pesanti, si riuscì a evitare il fallimento giuridicamente formale della stessa Banca d'Italia, che era cotta come una pera con le passività che cedevano alle attività nella misura del 30, 40, 50%. Le fasi invece in cui la moneta italiana è risultata drammaticamente debole sono state pure esse due, connesse con le guerre mondiali. Ve le dico brevemente, nel 1914-1920, i prezzi all'ingrosso, perché il costo della vita e i prezzi al consumo in questi periodi sono spesso controllati, distorti, i prezzi all'ingrosso riflettono meglio le scarsità relative nel mercato. Bene, nel 1914-1920 i prezzi all'ingrosso aumentarono di 6 volte, 5 anni, ossia del 30% l'anno. Il cambio, io ho scritto qui, scemo, ma in realtà crollò, da 5 lire per dollaro a 20 lire per dollaro. al di là dei quasi 700.000 soldati morti in quelle trincee, l'economia uscì dalla guerra trasformata, anche per certi versi, in positivo, ma profondamente squilibrata e su più fianchi fragile. L'inflazione, forte, come vi ho detto, colpì duramente i percettori di redditi fissi, erose stipendi e risparmi di impiegati, funzionari pubblici, professionisti, pensionati. Nel 1940-1948 i prezzi all'ingrosso esplosero di circa 45 volte, 45 volte, ossia del 58% l'anno, in media. Il cambio, questa volta ho scritto il verbo giusto, precipitò da 20 lire per dollaro nel 40, a 576 lire per dollaro nel 48. Al di là dei quasi 500.000 morti, questa volta metà dei quali fra la popolazione civile, molti italiani erano semplicemente ridotti alla fame, perché se non avevi soldi per comprare i generi nel mercato nero, le condizioni sanitarie del nostro paese erano assolutamente pietose, su questo stendiamo spesso un melo, giustamente pietoso, ma erano pietose queste condizioni sanitarie, da terzo mondo. Noi dovemmo implorare l'aiuto sanitario dei vincitori. aggiungo qui che la più forte inflazione in tempi di pace, perché queste due sono inflazioni da tempo di guerra e dopo guerra, è quella che abbiamo vissuto molti di noi, perché ha avuto luogo tra il 1968, che è un anno interessante, e il 1996. Lungo questo trentennio i prezzi a questo punto al consumo sono utilizzabili, li evitarono di 13 volte, ossia dell'11% l'anno. Il cambio declinò, questa volta uso il marco per ragioni ovvie, marciamo europeisticamente, da 156 alle mitiche 990 lire del rientro della lira nello SME nel novembre del 1996, quando a me e a Mario Draghi a Bruxelles ci sono venuti i primi capelli bianchi, insomma, in quelle riunioni terribili, dalle quali scaturì questo permesso di rientrare concesso alla moneta italiana nel sistema monetario europeo. In questi trent'anni circa, come sapete, la crescita annua dell'economia italiana ha rallentato dal 5% dei mitici anni 60 al 2% degli anni 90. L'economia italiana è tornata a ristagnare, soprattutto nella produttività, e questo preoccupa molto me, nella produttività, nella innovazione, nel progresso tecnico. sembra che le imprese italiane abbiano perduto smalto, capacità, come diceva Carlo Cipolla, di produrre cose che piacciano al mondo. Questo conferma il senso del mio discorsetto. Una moneta stabile è fondamentale condizione necessaria, ma non anche sufficiente di avanzamento del benessere monetario. La moneta nostra, l'euro, è stata molto stabile da quando esiste. Non di meno, per altre ragioni, questa economia sta sperimentando la peggiore stagione da Gavur. Cosa che ti fa mordere i polpastrelli delle dita, insomma. Preservare la stabilità dei prezzi è assolutamente essenziale, il senso del mio discorso è principalmente questo, e credo che questo miri il ritocco e il rialzo dei tassi dell'interesse che ieri o l'altro ieri la Banca Centrale europea ha deciso di fronte a questi focolai di per ora moderata inflazione che sono emersi. Ma la ripresa ciclica dell'economia italiana da questa profondissima contrazione e soprattutto poi il suo ritorno alla crescita dipenderanno da, come dicono i giuristi, dal combinato disposto di una politica economica corrispondente alla natura, alla gravità, allo spessore del problema drammatico di crescita che l'economia italiana vive e naturalmente dalla capacità delle imprese italiane di, non so, ritrovare, esprimere qualità, qualità imprenditoriale, qualità di produzione. Succederà? Non ho la minima idea. Grazie. Grazie per aver ascoltato. Grazie.